In un foglio bianco come nere, con il zallo ha fatto un sole che sorride dentro il blu. Oggi con i ragazzi abbiamo svolto il laboratorio dal nome A Carte Scoperte. Il laboratorio prevede la realizzazione di un mazzo di carte che poi rimarrà al gruppo, con il quale poi potrà giocare e divertirsi, utilizzando una tecnica fotografica molto antica, che è la stampa, utilizzando il metodo della cianotipia. La stampa consiste nella reazione di una sostanza ferrosa con la luce solare. In questo modo si ottengono delle stampe dal colore di un blu molto intenso. Queste carte poi sono state decorate ispirandosi a dei tarocchi, e quindi hanno ritagliato degli elementi specifici ai quali hanno attribuito un potere e poi hanno realizzato queste carte personali che poi daranno vita a un mazzo unico e personale con il quale potranno giocare tutti insieme. Infine hanno realizzato una scheda all'interno della quale hanno scritto i poteri attribuiti ad ogni carta in modo tale poi da poter giocare e creare una storia ogni volta nuova e ogni volta diversa. Oh che la mia voce è dato un canto!